In questi giorni si sta realizzando l'annuale incontro dei ricercatori dell'istituto Dulbecco Teleton che è appunto il retreat dell'istituto. E' senz'altro un momento di aggregazione importantissimo perché il nostro istituto, l'istituto Teleton Dulbecco nasce appunto con la vocazione di fare del seeding, ovvero seminare vari gruppi di ricerca in realtà già strutture esistenti un po' in tutta Italia, nelle varie realtà accademiche e non. Per cui questo è un momento unico in cui fisicamente noi che apparteniamo a questo istituto virtuale possiamo essere riuniti in un unico posto ed è senz'altro un'occasione importantissima per poter cogliere quelle che sono le maggiori linee di ricerca che senz'altro tutti quanti conosciamo però che vengono esposte nei dettagli soltanto in questo momento, in un momento di aggregazione come un meeting. I ricercatori del DTI vengono selezionati da parte di pari, quindi di ricercatori, di scienziati che abbiano la competenza per valutare queste candidature. Attualmente l'istituto comprende 22 ricercatori, ciascuno dei quali è stato in grado, grazie al sostegno di Teleton, di mettere in piedi un laboratorio composto da 5 a 20 persone che lavorano tutte su progetti di ricerca sulle malattie genetiche. In totale possiamo dire che ci sono più di 130 persone afferenti al progetto DTI. Non è Teleton che chiede e impone delle linee di ricerca specifiche, sono i ricercatori che ci propongono le loro idee e noi, la nostra commissione, selezionerà le idee migliori. Noi abbiamo una richiesta, cioè devono riguardare le malattie genetiche, perché queste sono l'oggetto della nostra missione. Ottenere un finanziamento ed entrare a far parte dell'istituto Dulbecco Teleton significa essere finanziati per almeno 5 anni, quindi per un periodo di tempo significativo durante il quale un ricercatore ha l'opportunità di mettere in piedi la propria attività di ricerca e di consolidarla nel campo delle malattie genetiche. Al quinto anno i ricercatori hanno anche la possibilità di vedersi rinnovato per ulteriori 5 anni il proprio finanziamento. Quindi dedicano una parte considerevole della propria vita professionale alla ricerca sulle malattie genetiche. Un nostro grande scienziato diceva scientist decide upon science, ovvero gli scienziati decidono sulla loro scienza e quindi anche sulle condizioni affinché ciò avvenga. Per cui la libertà è totale, Teleton vuole semplicemente vigilare che certe condizioni minime ovviamente vengano mantenute, ovvero che tu abbia uno spazio, che tu abbia un laboratorio, che tu abbia la totale autonomia amministrativa dei tuoi fondi, che tu pubblichi come corresponding author. Del resto non importa, è una scommessa anche su questo. Quindi i ricercatori che riescono in qualche modo a accettare, a cogliere questa sfida e avere successo in questa sfida vanno avanti, chi non ci riesce resta indietro e è esattamente la legge della scienza. Grazie a tutti.